Mosciano, Fiera Mercato dell'Elettronica C'è il mondo dell'elettronica che si schiude dietro alle mie spalle ed è il mondo che accomuna tanti appassionati non solo del settore dell'elettronica ma soprattutto delle tante curiosità. Molti espositori hanno raggiunto Contradaripoli qui a Mosciano Sant'Angelo per la prima edizione della Fiera Mercato dell'Elettronica. Un appuntamento che si ripeterà nel corso degli anni e che sicuramente richiamerà pubblico da ogni angolo d'Abruzzo e non solo. Giancarlo Di Francesco, ridono gli occhi perché oggi è riuscito ad inaugurare questa Fiera Mercato dell'Elettronica che sta dando tanta soddisfazione anche perché in tanti hanno accolto l'invito a proporre i prodotti tecnologicamente nuovi, avanzati che stanno richiamando l'attenzione di tanto pubblico. Sì, certo. L'adrenalina e l'emozione è tanta. Questo qui è derivato da un lungo lavoro. Siamo riusciti a portare da varie parti d'Italia espositori con i loro articoli. I loro articoli innovativi che adesso l'elettronica sta già in uno stato avanzato sempre più all'ordine del giorno. Sono contento anche di questa manifestazione. Cercherò di migliorare e di andare avanti sempre al più presto. In termini anche coorganizzativi è importante anche la presenza della FederVol che ha dato il proprio contributo considerando che poi passa per loro l'organizzazione itinerante di questo progetto, di questa iniziativa. Certo, questa è stata una cosa molto importante perché l'associazione FederVol ha contribuito con anche il loro volontariato di protezione civile, come diceva il Presidente e anche il Comune di Mociano Sant'Angelo, patrocinato anche dalla CNA che ci ha dato un loro contributo anche sugli opuscoli dove noi abbiamo messo il loro marchio per questa cosa perché è una grande organizzazione e logicamente farà squadra. Lei sta già pensando all'edizione prossima, probabilmente prima addirittura che chiuda l'anno? Sì, no, pensiamo a un'edizione prossima, futura, speriamo tutto bene, però io ho la mia intenzione di proseguire questo cammino non fermandomi solamente in questo campo dell'elettronica perché vorrò organizzare altre manifestazioni settoriali, adesso non vi sto a qualificare quante, non vi sto a qualificare, diciamo perché, saranno delle novità. Un evento significativo per la città di Mociano Sant'Angelo e non poteva mancare anche la presenza a testimonianza di questa importante giornata qui a Mociano dell'amministrazione comunale impersonata nella figura del Vice Sindaco Luca Lattanzi, giornata importante per l'amministrazione, per la cittadinanza anche perché portare una fiera dell'elettronica sicuramente diventa motivo di interesse per una collettività sempre più tecnologicamente avanzata. Certamente è un onore ospitare una manifestazione di questo genere anche perché farà da volano all'intera zona, la zona artigianale di Mociano che con la sua posizione strategica valorizza il territorio e eventi come questo non fanno altro che valorizzare il territorio stesso e siamo onorati di ospitarlo, tanto che l'amministrazione ha concesso il patrocinio e sarà onorata di ospitarlo anche in futuro nel caso ci saranno nuovi eventi di questo genere. Tradizione e futuro sembrano unirsi simbolicamente perché Mociano città del mobile con una lunga tradizione ospita invece la new technology e quindi sembrerebbero cozzare le due cose ma in realtà così non è. No, anche perché il mercato del mobile va anch'esso verso il futuro, verso una domotica che può riscoprire l'elettronica per una casa funzionale e perché no, elettronica, tradizione immobiliare e futuro possono congiungersi qui a Mociano per un futuro migliore, chissà, magari diverso. Sarà sicuramente in veste di curioso, appassionato di elettronica e domotica. Magloriano Lanciotti e per tutti il coordinatore della CNA, per la cui presenza sicuramente non è un caso perché anche la categoria di antennisti piuttosto che di altri che si occupano di elettronica vivono sotto l'ombrello della Confederazione di Artigiani di Garanzia. Sì, noi abbiamo volentieri patrocinato questa iniziativa interessante perché comunque rientra nella missione della nostra organizzazione di seguire le imprese, tutte le imprese, tutte le tipologie di attività per dare un sostegno in un momento di grande difficoltà economica. Comunque queste iniziative sono utili per far conoscere nuovi prodotti, la nuova tecnologia. Comunque sono imprese che sono sul mercato e come organizzazione noi dobbiamo necessariamente sostenerle. Quindi un applauso al gruppo che ha organizzato questa vendita questa mattina, che è un bel evento che so che si ripercuoterà, si rifarà ancora in altri territori. Quindi come organizzazione, come CNA, noi siamo e saremo comunque sempre vicino alle imprese e coloro che vogliono fare. Voi avete spesso parlato di vetrina come momento importante di promozione non solo delle tipicità del territorio, piuttosto che delle categorie che voi rappresentate e in qualche maniera anche difendete. Quella dell'elettronica che sembra essere una nuova realtà che piano piano si sta facciando, potrebbe creare anche le nuove opportunità proprio per la categoria degli imprenditori che si occupano di questo settore? Sicuramente sì, è un mercato vasto che abbraccia dall'elettronica al settore degli impiantisti che oggi hanno difficoltà. Quindi credo che comunque tutto ciò che viene fatto, tutto ciò che è nuovo, credo che sia utile per dare una smossa a questo mercato che in questo momento è stagnante. Purtroppo, ripeto, nella nostra provincia viviamo una situazione molto difficile ed è giusto e utile che tutto ciò che viene fatto come organizzazione noi lo dobbiamo necessariamente sostenere. Francesco Nobili, assessore al Comune di Mociano, assessore a mille deleghe, ma in questo contesto soprattutto perché è stata la sua amministrazione a regalare un contesto, quello di zona di Contrada Ripoli, nel polo industriale, per ospitare la fiera dell'elettronica. Di solito si accolgono gli ospiti con il red carpet, in questo caso l'abbiamo fatto con un black carpet perché sembra una zona tirata all'ustro, totalmente rinnovata, proprio per il benvenuto a questo evento. Buongiorno a tutti, io innanzitutto voglio ringraziare Giancarlo Di Francesco, l'organizzatore di questo evento che ha lavorato già da più di un mese, un mese e mezzo per la realizzazione di questa fiera. È la prima volta che viene fatta questa tipologia di fiera a Mociano, quindi abbiamo accolto veramente con piacere il fatto che Mociano venisse scelta per questo tipo di manifestazione, speriamo che sia la prima di una lunga serie. Ti ringrazio per il passaggio fatto perché a livello di amministrazione diciamo che non è stata fatta esclusamente per la fiera, ma era un progetto già che è iniziato circa due anni fa, che pensiamo sia necessario e utile, cioè partire dalle infrastrutture. Quindi abbiamo fatto, questa della zona dove ci è una zona di completamento, quindi un terzo lotto che doveva essere ultimato. Chiaramente è una cosa che porta lustro sicuramente alla situazione perché avere delle situazioni anche infrastrutturali che sono fatte bene, funzionali eccetera, sicuramente premiano anche il fatto che si facciano certe manifestazioni. Anche chi viene dall'esterno, insomma, trovare delle situazioni, delle infrastrutture organizzate, fatte bene, strade che siano in ordine eccetera, sicuramente può aprire delle prospettive. Matteo Ciprietti, pilota Moto3 Honda, ospite d'onore e testimonial di questa prima fiera mercato dell'elettronica qui a Mociano Sant'Angelo. Una partecipazione importante anche per i successi ultimi, soprattutto che hai conquistato, visto che dall'età di quattro anni che cavalchi una moto. Sì, dovrei ringraziare gli organizzatori di questa bellissima fiera, spero che verrà tanta gente perché ci sono molte cose belle. Per le ultime gare sono andate molto bene, infatti nell'ultima gara dell'European Junior Cup sono arrivato secondo che mi ha selezionato la Honda Italia per fare questa gara, tutto sponsorizzato da loro. Invece per quanto riguarda il campionato italiano con la Moto3 ho vinto l'ultima gara a Imola e quindi adesso sono primo in campionato a pari punti con il mio avversario. Adesso la settimana prossima abbiamo la gara a Misano che è il settimo-ottavo round e speriamo che andrà bene perché è una delle gare più decisive del campionato. Insomma, belle soddisfazioni, nel tuo medaliere inizia a collezionare davvero grandi successi, dove ti porteranno? In questo momento sta andando tutto bene, anche un po' di sponsor, soprattutto quelli che hanno investito su di me, sono molto contenti e quindi spero che se ne aggiungeranno altri e speriamo bene. Siamo in un'associazione di volontariato che organizziamo questi eventi fieristici per autofinanziarci. Qui vedete un camion nostro che è stato comprato con i soldi delle fiere abbassate. Ed è bello soprattutto pensare che nel mondo del volontariato si riesca a trovare anche spazio per organizzare qualcosa che sia portatore di interesse, come nel caso dell'elettronica, che accomuna sempre più appassionati e nonne, perché sarà questa l'occasione per cui tanti potranno ritrovarsi sotto il segno del know-how. Sì, ma infatti la nostra intenzione è autofinanziarci. Noi non abbiamo contributi da parte dello Stato e tutte le nostre attività che oramai sono arrivate anche all'estero, perché noi siamo stati presenti anche in occasione dello tsunami nelle Filippine con la regione Marche, con dei nostri tecnici esperti, sono finanziati dall'associazione, quindi anche da queste manifestazioni. Quindi, diciamo, da una parte promuoviamo le radiocomunicazioni, la conoscenza della cultura della protezione civile, delle tecniche, eccetera, e dall'altra tiriamo su a fare qualche soldino senza incidere sullo stesso.